Io vorrei dire giusto due parole su Assunta Chianese, che è la sostituta di Nicola, che non è altro che il tuo fratello. Allora, tu come lui sei un personaggio molto conosciuto nel mondo latino e quindi ti vogliamo chiedere tu cosa cerchi in questi ragazzini? Allora, in pratica, prima di cosa la voglia di ballare proprio si deve vedere nei loro vissi e tutto. Giustamente, come dice la mia collega Enza, qualche passo in più di tecnica ci deve essere, almeno accennato. C'è una passeggiata di rumba, di ciaccia, come ha detto appunto lei. Ovviamente capisco anche che sono dei gruppi di coreografico, quindi a volte si tende più al fattore estetico che al fattore tecnico. Però questa volta cerchiamo di dare più visibilità anche al fattore tecnico, perché essendo proprio un programma di latino, è comunque opportuno portare dei passi all'interno delle coreografie, in modo tale che noi abbiamo più possibilità di giudicarli in modo positivo. Ok, ok, perfetto. Grazie. Grazie. Grazie.